Ciao a tutti, oggi cambio di location perché ci troviamo nella mia nuova casa, finalmente mi sono trasferita dopo mille milioni di anni ce l'ho fatta e il primo video che farò qui è uno dei miei video preferiti uno dei video che aspetto con ansia tutti gli anni, il video dei prodotti make up top dell'anno quindi top ovviamente del 2013 e ci butterò dentro un sacco di cose, soprattutto noi prodotti perché comunque è bello anche parlare di prodotti che sono stati scoperti secondo me durante l'anno tipo appunto quelli di cui vi parlo adesso, ho qui un bellissimo cesto delle meraviglie e cominciamo dai prodotti viso, uno dei prodotti viso preferiti del 2013 è un prodotto di cui vi ho parlato da poco e vi ho fatto anche una recensione specifica ed è il correttore della Cool Air Caramel, lo 08, questo è un correttore molto buono che io utilizzo per le occhiaie idratante, cremoso, copre bene, è un correttore bio quindi veramente un'ottima scoperta del 2013 vi consiglio di vedere la recensione se vi interessa poi il fondotinta preferito del 2013 senza ombra di dubbio è la BB Cream della Sobio io ho preso questa qui in texture classica ma penso che tutte sappiate che ci sono anche varie formulazioni delle BB Cream della Sobio, c'è questa, c'è quella che è più coprente, poi c'è quella più leggera che ho utilizzato d'estate, mi piacciono entrambe, sono secondo me dei prodotti validissimi questa qui poi in particolare per l'inverno è perfetta perché è proprio il mio colore di pelle io ho lo 01, è il mio colore di pelle, rende la pelle omogenea, non troppo secca, copre bene tutto il viso le discreomie e poi è un prodotto bio insomma quindi anche molto buono dal punto di vista proprio degli ingredienti anche poi il filtro di protezione, è veramente stata un'ottima scoperta del 2013 la BB Cream della Sobio vorrei provare anche quell'altra latte di asina però l'ho swatchata in negozio ma non mi ha fatto impazzire mi è sembrata addirittura meno coprente rispetto a quella in texture leggera quindi alla fine non l'ho presa e poi la cipria migliore dell'anno è senza ombra di dubbio questa qui della Benecos la Natural Compact Powder Modifying e io ho il colore, questo colore qui che è il colore sand che non è il più chiaro, mi sembra il secondo per quanto riguarda la tonalità ecco uno sboccino della cipria questa cipria mi è piaciuta tantissimo perché è matifica però senza risultare, senza seccare la pelle quindi lascia la pelle bella, luminosa, idratata e allo stesso tempo dà anche una leggera coprenza quindi dà un effetto proprio omogeneo una volta applicata sul viso dopo il fondotinta è veramente una bella cipria, poi appunto controlla l'elosità sente Whatsapp in sottofondo, è veramente buona e poi tra l'altro i prodotti di cui vi parlo, ne ho parlato mille volte in vari video sono tutti più o meno low cost la BB cream, il correttore di color caramella è quello che costa diciamo di più, 15 euro la BB cream della Sobio la trovate intorno ai 13 euro questa qui, la cipria, intorno ai 4-5 euro comunque prezzi buoni per prodotti bio poi per quanto riguarda i blush, cito sempre la Benecos perché il blush della Benecos, almeno questo che ho provato io, lo trovo validissimo ed è il colore Sassy Salmon la Benecos è stata proprio una grande scoperta del 2013 e questo è un bellissimo colore corallo adatto sia all'estate, è leggermente luminoso sia all'estate che all'inverno mi piace moltissimo e poi è una buona durata poi altri blush con cui mi sono durata bene visto che tanto ormai parliamo di blush è questo qui, senza ombra di dubbio questi nuovi blush della Zoeva sono veramente buonissimi quelli di cui vi ho fatto un video di preview in cui ho applicato tutti i vari colori in particolare ne ho presi un paio con cui vi trovo particolarmente bene questo qua è un colore bellissimo ed è Last Love ed è una specie di corallo piuttosto, non dico, modulabile potete metterne poco e quindi risulta molto leggero potete metterne di più e risulta più coperente veramente bellissimo, è quello che ho su oggi questi blush sono setosi si applicano facilmente risultano tutti molto matte quindi sono anche dei blush portabili e diciamo li uso quando non so bene quale blush mettere prendo uno di questi perché comunque sono classici portabili si adattano bene a tutti i look essendo anche matte veramente bellissimi questo è Last Love poi ho anche un altro che mi piace molto è He Loves Me Maybe che è tipo quello però un pochino più sul rosa vedete bello, bello purtroppo c'è la luce sparata devo un attimino vedere bene come fare l'illuminazione comunque questi sono veramente validissimi vengono 7,50 euro e vengono venduti sul sito di Izoeva poi vediamo un pochino e invece per quanto riguarda gli ombretti mi sono trovata molto bene con degli ombretti low cost anche questi nuove scoperte dell'anno e sono gli ombretti della MUA Makeup Academy e questi ombretti vengono pochissimo un pound l'uno quindi circa insomma un euro e qualcosa un euro e trenta e sono pigmentatissimi guardate che roba veramente pigmentatissimi bellissimi hanno un prezzo appunto imbattibile durano tanto colori particolari ce ne sono poi un'infinità tra cui scegliere quindi veramente purtroppo appunto li potete reperire solo online guardate questo viola che bello però insomma secondo me ne vale la pena di provarli perché potete sperimentare i vari colori per un prezzo del genere sono tutti pigmentatissimi soprattutto questi qua con la formula perché ci sono perlata ci sono anche quelli matte scrivono un po' meno questi perlati sono eccezionali veramente un'ottima scoperta e anche le palettine sono molto buone io ho provato diverse palettine della MUA e sono tutte molto versatili ci sono poi un'infinità di colori belle e il prezzo è eccezionale poi un'altra palette con cui mi sono trovata bene è questa qua della Sigma anche questa è una nuova scoperta perché la Flair questa è la palette Flair bellissima sono tutti colori stupendi anche di questo poi ho fatto sul blog un post scrivono tutti bene questi qua della Sigma guardate questa qua poi è una palette particolare perché ci sono tutti i colori che comunque metto però diversi dal solito non è la solita palette banale ci sono questi verdi questi turchesi lilla veramente bellissima secondo me questa palette è stata una scoperta perché di Sigma non avevo mai provato gli ombretti e secondo me sono validissimi buoni poi video è finito per quanto riguarda l'ombretti in crema sicuramente vi devo parlare dei long lasting last rose eyeshadow della ELF che mi sono sempre che mi sono piaciuti tantissimo sono questi ombretti in crema barra mousse mi piacciono perché sono durano tanto e hanno dei colori particolari sono tutti molto metallici barra shimmer e hanno una consistenza ottima durano sia da soli anche se fissati con un ombretto hanno una ottima tenuta e questi colori sono molto forti vibranti ci sono tipo dei viola questo qua che invece è tipo un bel malva ce ne sono davvero tanti e vi consiglio di provarli perché hanno un prezzo veramente ridicolo tipo 4,50 euro poi se le prendete ordinate dall'ELF con gli sconti costano ancora meno quindi sono veramente eccezionali poi per quanto riguarda gli eyeliner ne cito due questo qui che è il cream eyeliner della ELF con cui mi trovo molto bene ed è un eyeliner in gel e questo lo ricompro sempre perché mi ci trovo proprio bene secondo me è al pari di tanti eyeliner in gel molto più costosi fa un bel tratto nero bello anche all'interno dell'occhio dura tanto e costa soltanto 4,50 euro anche quello validissimo ma mi sto trovando molto bene con un eyeliner che in realtà ho acquistato da poco che è il Precision Eyeliner però sicuramente uno dei migliori del 2013 di Kiko mi piace perché riesco a fare un tratto fino senza fare troppi danni purtroppo io non sono un amante dell'eyeliner questo qua col pennellino però devo dire con questo mi trovo bene riesco a fare una linea piuttosto precisa infatti si chiama proprio Precision Eyeliner giustamente il nome stesso parla chiaro quello è molto buono l'ho preso e l'ho preso con il 30% di sconto che c'è stato poco fa all'Ekiko ho preso sia una tinta che quello e quello secondo me è validissimo poi per quanto riguarda i primer occhi senza ombra di dubbio è il miglior primer di quest'anno e forse di sempre è questo della Zoeva ed è l'Eyeshadow Longwear Fix Eyeshadow Fix Matte che è questo primer della Zoeva che si presenta appunto in tubettino in colore diciamo color pelle fa durare l'ombretto tutto il giorno è fantastico opacizza bene la palpebra sicuramente uno dei migliori primer mai provati e tra l'altro ha un prezzo molto basso non ricordo se intorno ai 6 euro o una cosa del genere però veramente validissimo questo ve l'ho parlato mille volte e ormai ho fatto una capoccia così con sto primer veramente buonissimo ma oddio non ce la faccio più dall'altro sono ancora un po' raffreddata e vi parlo di mascara vabbè mascara ce ne sono stati in realtà molti durante l'anno che validi uno che non ho qui perché appunto col trasferimento molte cose le ho lasciate all'altra casa però è quello della Catrice l'ultra black di cui vi ho parlato un sacco di volte vi ho fatto anche un'applicazione di quel mascara secondo me validissimo e un altro mascara molto valido è questo della Essence Lashes Go Wild e anche quello l'Essence I Love Extreme quello nel tubetto rosa sono tutti sono tutti mascara molto validi e low cost diciamo non c'è poi un specifico mascara preferito perché io li alterno molto mi piace anche cambiare sono tutti questi dell'Essence secondo me sono molto validi e costano poco poi per quanto riguarda le labbra anzi no ancora un prodotto per gli occhi scusate la miglior matita nera dell'anno senza ombra di dubbio è questa che già mi si è tolta diciamo la scritta però è della Sigma la matita nera Boost che è una matita nera eccezionale fa un tratto nerissimo e ha una durata splendida è praticamente la miglior matita nera senza ombra di dubbio del 2013 e forse proprio di sempre mi piace tantissimo scrive bene anche all'interno dell'occhio anche se comunque a me nessuna matita mi dura all'interno dell'occhio però sicuramente è validissima e poi appunto si sfuma bene però si fissa e rimane bella nera tutto il giorno bellissima poi la miglior matita per sopracciglia questa qui della Catrice Eyebrow Stylist e il colore che ho è lo 020 mi è piaciuta molto perché è una matita che comunque risulta sul cenere vedete e quindi non ha un sottotono troppo rossastro e si adatta bene al mio colore di sopracciglia dura bene è una quantità molto grande tra l'altro di matita e ha un costo molto basso non ricordo precisamente qualche euro insomma è molto buona ce l'abbiamo quasi fatta poi per quanto riguarda le labbra mi sono trovata bene con gli essence quelli stay no matter what i gloss che è quello che ho su oggi uno di quelli l'ho dimenticata al bagno quindi però sappiate che insomma è tra i preferiti poi mi sono trovata molto bene con queste tinte per labbra della elf ce la posso fare questa qui in particolare è la mia preferita ed è il colore red carpet un bellissimo è molto simile alla fine a questo colore qui è un fucsia piuttosto intenso bello ma mi sono trovata bene sicuramente il miglior rossetto dell'anno è questo qui della MUA make up academy ed è il colore raspberry e questo è della collezione fashionista senza ombra di dubbio il miglior rossetto dell'anno perché è un rossetto pigmentato che però dura a lungo cosa importante poi non secca le labbra nonostante appunto abbia una buona durata purtroppo questi rossetti sono spesso out of stock non riesco mai a comprarli però se avete appunto la possibilità di accapararveri ve lo consiglio perché tra l'altro costano tipo 3 euro o una cosa del genere hanno un prezzo eccezionale li trovate sempre sul sito della make up academy e poi il miglior matite per le labbra sono senza ombra di dubbio queste qui della neve cosmetics le matiche pastello secondo me sono molto valide sia usate da sole che usate per il contorno delle labbra ho preso un colore a caso mi piacciono tutte io ho preso il fenicottero che è molto bello anche usato da solo perché è un bel fucsia matte molto intenso poi mi piace anche molto teatro che è un bellissimo rosso veramente molto valide queste matite di neve cosmetics belle belle poi il miglior gloss probabilmente questi qua di benekos perché sono dei gloss portabili che idratano le labbra non appiccicano perché sono piuttosto fluidi veramente carini quindi anche benekos molto buoni anche gloss poi altri rossetti che purtroppo sono il limited edition sono questi qui di Kiko che secondo me sono i migliori rossetti di Kiko che Kiko abbia mai fatto sono una collezione in edizione limitata non ricordo quale sia probabilmente mi metterò un fumettino per dirvelo però sono questi con il packaging argentato io praticamente li comprai tutti con i saldi e sono veramente validi che sono sul matt ma durano un'infinità sono proprio delle tinte si appiccicano alle labbra e non si levano e i colori erano tutti bellissimi molto carichi belli veramente belli purtroppo Kiko non li ha messi in edizione permanente mi sarebbe piaciuto vederli in edizione permanente infine come pennelli mi ve ne ho presi qualcuno mi sono trovata bene con questo di Kiko anche questo era un'edizione limitata bellissimo per applicare la cibria perché è un pennellone enorme con una forma molto particolare l'ho lavato varie volte non ha perso peli questo è stato sicuramente un grande pennello della Kiko anche la spugnettina anche questa di riduzione limitata mi ci sono trovata molto bene poi mi sono trovata benissimo sempre con questo pennello della Everyday Minerals che non mi ricordo mai come si chiama ma vi lascio un fumettino qui l'ho preso sul sito di Ecco Verde Sculpting Face Brush una cosa del genere e questo è morbido poi al manico in bambù un pennello vegan validissimo perché riesce a applicare anche i blush quelli più forti li rende molto molto tenue e modulabili è veramente ottimo poi questo qua di Sigma è il Precision Tapered P86 è un pennello perfetto secondo me di precisione per applicare tipo il correttore in zone precise perché appunto a questa è appuntito oppure anche sotto gli occhi validissimo poi anche questo qui è un pennello in edizione limitata della Sigma l'ho scelto perché comunque è un pennello molto comodo è il pennello E55 del 40 insieme io lo porto sempre in viaggio perché con questo applico l'ombretto e con questo lo sfumo veramente pratico da portare in giro e questo era in dotazione insieme alla palette che abbiamo mostrato prima validissimo e poi gli ultimi due pennelli sono due pennelli di Zoeva che anche questi sono stati una nuova scoperta dell'anno e uno ottimo per applicare l'ombretto ma anche per sfumare è il 227 soft definer vegan che è questo pennello appunto lo vedete ha lingua di gatto però comunque è piuttosto denso e quindi si presta bene anche per sfumare diciamo nella piega dell'occhio validissimo e infine questo qua è il 102 silk finish nella Zoeva somiglia molto a quello al kabuki diciamo a punta tonda della Sigma l'ho preso perché comunque secondo me è un ottimo dupe è un pennello stupendo per applicare il fondotinta si lava bene non ha perso neanche un pelo sono tutte setole sintetiche quindi dei pennelli vegani e questo qui appunto è validissimo per i prodotti in crema blush in crema fondotinta buonissimo e niente credo di aver detto tutto questo è stato veramente un video lungo ce l'ho fatta a finire senza che mi si scaricasse la batteria che era il mio obiettivo principale e niente questi sono i miei prodotti make up preferiti credo che farò poi una versione anche per tipo creme viso creme corpo capelli eccetera fatemi sapere se vi può interessare anche quello questo è tutto vi mando un bacio e vi faccio anche gli auguri per il nuovo anno e ci vediamo alla prossima